Wow, è fantastico! Dovrebbe provarci anche lei, signor Fredrickson. Guardi, quell'autobus potrebbe portarmi a casa. Ehi, vedo anche casa sua da qui! Ora mori carica, ragazzino! Signor Fredrickson, assaggia la cacca, è buonissima! Non lo voglio sapere! Assaggia la cacca, è buonissima! Ma che? Ehi! Ehi tu, che cacca fai? Dammela a me! No, 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 non ci farà a me, ci penso io! No, no, tu stai rubando, preparati a morire! Fatto un bando nel cemento! Io non ci trovo con le lini! La faccenda è seria, è deciso a prendersi casa sua! Chi è che ha il suo capo che potrà avere la nostra casa? Davvero? No, stavo scherzando! Questo lo prendo come un forse!